salve a tutti benvenuti sul mio canale io sono mister camarium oggi vi parlo dello spinner lo so già lo conoscete l'avete vista anche su altri canali anche come realizzarlo ma io in più vi voglio portare un altro contenuto perché di tanto così famoso che cos'è chi l'ha inventato quindi nel video che seguirà vi farò vedere come l'ho realizzato io utilizzando dei componenti che ho trovato giù in officina praticamente mi è venuto gratis e parleremo se è davvero un antistress quindi buona visione e spero che questo video vi possa essere utile arrivederci primo che cos'è e come funziona si tratta di un piccolo dispositivo solidamente di plastica con dei cuscinetta sfera posti all'estremità si stringe la parte centrale fra i pollici e l'indice e con un colpo della mano si fa ruotare questo gadget intorno al suo perno centrale insomma sembra proprio l'evoluzione della vecchia trottola è disponibile in diversi colori e materiale e qualcuno ha già la stampata addirittura in 3d secondo cosa vuol dire fidget spinner letteralmente fidget significa agitarsi continuamente e spinner indicano rotella girevole quindi una trottola ecco la definizione che dà anche wikipedia terzo come e quando è nato nasce come strumento antistress e di supporto alla concentrazione per i bambini ha inventato l'estate una mamma ingegnere caterina endinger della florida come raccontata al guardian negli anni 90 ha sviluppato il curioso giocattolo perché soffriva di una malattia che la indeboliva e voleva distrarre la figlioletta di sette anni patronalmente in pace dopo averlo brevettato nel 1997 ha provato in vano a vendere l'idea ad alcuni colossi del settore fino a scadere brevetto nel 2005 dopodiché questo gadget è stato prodotto registrando un boom di vendite senza che lei ne possa ormai trarre alcun vantaggio economico 4 perché boom arriva solo adesso sembra che a concorre alla diffusione di questa moda sia stata probabilmente un articolo di forbes e nel 2017 è stato definito gadget d'ufficio da allora i trenzi è fatto sempre più largo sul mercato e addirittura su google le ricerche di questa parola chiave hanno visto un'impernata tra la fine dei mesi di aprile e inizio maggio le aree geografiche più interessate sono stati uniti irlanda e picchi italia quinto è davvero un anti stress a procura davvero dei benefici allora online viene pubblicizzato come un anti stress ma tuttavia le ricerche non hanno dimostrato effettivamente se questo aumenta la concentrazione o diminuisce lo stress effetti uno psicologo mark rapport che lavora università della florida ha detto che piuttosto che aumentare il beneficio sulla concentrazione la diminuisce e su questo concorda che telison una direttrice della scuola elementare della illinois che dice che da che i suoi alunni hanno cominciato a utilizzare questo dispositivo la loro concentrazione è diminuita e nel suo istituto ha dovuto proibire l'uso di questo gadget e in italia qual è la reazione in italia è diventato un tormentone tanto che ne parlano anche youtubers ma purtroppo anche in italia si è avuto lo stesso problema molti istituti hanno avuto problemi di concentrazione con i ragazzi seguono le lezioni hanno dovuto anche loro proibire questo dispositivo ok ormai siamo arrivata alla fine di questo video io l'ho realizzato anche io questo dispositivo ma giusto per spizio per dimostrare che non è molto complesso vi ricordo di rimanere un like di condividere il video e se conoscete altri invitateli a iscrivervi al mio canale comunque ci vediamo la prossima volta e spero che questo video vi sia stato utile buona giornata